In questa edizione del TG Motori, Nissan ENV200 Evaglia entra nella flotta dei veicoli a servizio dei laboratori nazionali del Gran Sasso. Il raduno del secolo è stato il momento culminante delle celebrazioni per il centenario organizzato dai collezionisti Citroen. Il nuovo X2 City cambia tutto, leggero, compatto e pieghevole. Nissan ENV200 Evaglia, l'unico veicolo al mondo a sette posti 100% elettrico, entra nella flotta dei veicoli a servizio dei laboratori nazionali del Gran Sasso, un'eccellenza nella fisica delle particelle del centro Italia per contribuire all'impronta ecosostenibile dell'ente. Con un'autonomia di 200 km nel ciclo combinato e fino a 301 km in città, il veicolo garantisce ai laboratori un servizio di navetta tra le sedi di Astergi e le sale sperimentali situate all'interno del tunnel autostradale del Gran Sasso nel rispetto dell'ambiente. L'elevata autonomia di ENV200 Evaglia infatti permette diversi accessi ai laboratori sotterrani con una sola ricarica, riducendo l'inquinamento atmosferico e acustico nella zona. L'impiego dei veicoli 100% elettrici Nissan si allinea quindi perfettamente con la strategia dell'ente di ottimizzazione delle risorse e di miglioramento continuo. Il raduno del secolo che si è svolto alla Third Vidam è stato il momento culminante delle celebrazioni per il centenario organizzato dai collezionisti Citroën. Sono state organizzate diverse attività all'insegna dell'aggregazione tra cui esposizione di veicoli, animazione, conferenze tematiche e concerti. La marca Citroën ha partecipato con l'esposizione di 42 modelli iconici dei suoi 100 anni suddivisi in 20 modelli storici di serie, 10 vetture da competizione, 9 modelli della gamma attuale, 3 concept car. Un percorso che inizia nel passato, nel 1919, con la prima vettura Citroën, la Tip A10 HP, fino ad arrivare alla proposta innovativa per i viaggi del futuro con 19-19 concept. 19-19 concept rappresenta la visione di Citroën dell'ultra comfort e della mobilità ex-rubana. Reale manifesto della marca è un'espressione non convenzionale al di fuori dai codici automobilistici. Con un'autonomia di 800 km propone un'esperienza di viaggio unica all'insegna del comfort assoluto. Dalle zone a traffico limitato, ai parchi, alle vie pedonali, il nuovo X2 City cambia tutto. Leggero, compatto e pieghevole, si inserisce facilmente nel bagagliaio e può inoltre essere portato sui bus e sui treni. Grazie alle sue dimensioni compatte, il X2 City occupa ancora meno spazio rispetto alla maggior parte delle biciclette pieghevoli. Nonostante questo, il monopattino fa una grande figura nel traffico cittadino. Grazie al moto riduttore del manubrio è ancora più maneggevole. L'energia per il motore elettrico è fornita da una batteria agli ioni di litio resistente agli schizzi e alla pioggia, integrata nel telaio del veicolo che consente di percorrere tra i 25 e i 35 km. Per non dover rimuovere la batteria ogni volta, X2 City ha una presa di ricarica esterna, il che significa che si può ricaricare facilmente usando una normale presa domestica. Una ricarica completa richiede solamente 2 ore e 50 minuti.